Oggi è il Safer Internet Day per Dilla in inglese, la giornata mondiale per la sicurezza in rete che è stata istituita nel 2004 dall'Unione Europea. In questa occasione, questa mattina, si è svolta a Roma e online con migliaia di scuole collegate un'iniziativa nazionale della Polizia di Stato chiamata Cuori Commessi, dedicata ai ragazzi e alle ragazze, alle loro storie che sappiamo vivono la rete e i social come una parte naturale della propria vita, a volte senza essere consapevoli non solo delle potenzialità ma dei grandi rischi che si possono correre, come quello del cyberbullismo. A ospite dell'iniziativa anche Marika, una ragazza di Campobasso, ma vediamo il servizio. Cuori connessi, un grande evento in diretta streaming questa mattina per parlare ai ragazzi e sostenerli nell'utilizzo responsabile della rete e delle tecnologie digitali. Lo ha organizzato la Polizia di Stato in occasione del Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza in rete istituita dall'Unione Europea. 200.000 studenti, più di 5.000 scuole, secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, per raccontare le storie dei ragazzi e delle ragazze, come quella di Marika, molisana, che è stata vittima di bullismo e poi di cyberbullismo a causa della sua dislessia. Tu a un certo punto hai manifestato un desiderio, possedere il mantello dell'invisibilità. È un superpotere o è un negarsi al mondo? Cos'era questo mantello dell'invisibilità? È più un negarsi al mondo perché avevo paura di ricevere ancora risetirne di scherno e quindi volevo che nessuno potesse notarmi in modo da non soffrire ancora. Avrei voluto indossare il mantello dell'invisibilità, detto Marika. È quello che succede, perché chi subisce questi atti si chiude al riccio. Si chiude al riccio per difendersi e per difendere anche le persone che stanno intorno. Bibi è invece stata perseguitata per i suoi disturbi alimentari ed essere sovrappeso, quello che chiamiamo body shaming. Il dolore funziona come se fossero tanti aghi che ti perforano la pelle continuamente. È un dolore che non riesci a far smettere. Può sembrare un gioco, un qualcosa che si può fare con gli amici per passare del tempo, però in realtà dall'altra parte non si può realmente comprendere quello che una persona sta provando e sta passando. Ed è difficile, è brutto. Il cyberbullismo è fatto di parole, provocazioni, molestie, minacce. È un fenomeno in crescita, soprattutto dopo il lockdown e la pandemia. Ormai un episodio su cinque di bullismo avviene nella rete e nei social media. Noi ancora parliamo di realtà virtuale, di web. Virtuale si accompagna con il reale, quindi come se ci fosse una dimensione che in realtà è qualcosa di astratto, che quindi non ha conseguenze, non può fare male, non ha pericoli. In realtà è importante, e a questo servono queste campagne, far percepire che ormai il web è qualcosa di assolutamente reale, fa parte della nostra vita. Spesso le parole fanno più male di quella che può essere la violenza fisica. Spesso le parole fanno più male di quella che può essere la violenza fisica.